...dalla nazione, rispettata dalle sue elevate professioni, quelli distanti ma non separati, iniziate un percorso professionale, sarete gratificati dal suo viso delle persone per il riuscimento concreto del vostro quotidiano sacrificio. In tale direzione, non stando costantemente al passo politico, ...l'assistenza all'unità di un materiale logistico di protezione civile, anche a... ...cosco bene il vostro sacrificio quotidiano, non solo per... ...ragazzi, addormento, giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarle chiaramente la Costituzione e le leggi, di arrendere i doveri dell'ufficio, nell'interesse dell'amministrazione del pubblico bene. ...vincite il terzo dell'amministrazione del pubblico bene il 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 pubblico bene. Grazie a tutti. Grazie a tutti.